Si può dormire in tenda d'inverno, in montagna, anche con temperature attorno ai meno 20? Assolutamente sì! L'importante però è avere la giusta attrezzatura, che oggi vediamo insieme. L'aspetto più importante se volete dormire in tenda a meno 20 è sicuramente la tenda. Qui avete due chance, volete scegliere due tipi di tende. O le tende quattro stagioni, quindi che potete utilizzarle praticamente un po' tutto l'anno, a patto però che siano innanzitutto doppio telo e soprattutto che il telo interno non sia in zanzariera, deve essere di un tessuto continuo proprio per riuscire a isolarvi per bene dal vento, perché fidatevi di inverno, di vento ce n'è sempre tanto. Oppure l'opzione che più vi consiglio, soprattutto per delle temperature veramente basse, è quella di prendere delle tende doppio telo, ma che abbiano il telo esterno appositamente studiato per l'inverno. Sono dei teli innanzitutto super impermeabili, ma che poi nella parte interna presentano un foglio d'alluminio che va a isolare anche termicamente la tenda. Vi assicuro che se dormirete a meno venti con questo tipo di telo, all'interno avrete un microclima per nulla male. Altro aspetto che vi consiglio è quello di mettere magari sotto la tenda un sottotelo per isolarla meglio ancora dal terreno e dalla neve. Mi raccomando non elemosinate sulla grandezza della veranda, perché soprattutto d'inverno ci dobbiamo mettere tutto il materiale che abbiamo con noi e dobbiamo avere spazio anche per poterci cucinare la sera, comunque essere un pochino vivibile. E soprattutto, altro aspetto da non sottovalutare, è quello di avere la parte dove inserire i picchetti, quindi la fibia dei picchetti, bella grossa. Perché i picchetti sulla neve non servono praticamente a nulla, ma avrà più senso magari infilarci o dei bastoni che trovate in giro, oppure delle piccozze o degli sci. Se avrete una fibia troppo piccola non riuscirete a picchettare la tenda. E una chicca finale, soprattutto sulle tende invernali, è la minigonna. Praticamente un pezzo di telo in più messo nella parte inferiore, che andandoci a mettere sopra la neve, vi isolerà completamente dall'ambiente circostante, sia dal punto di vista termico che dal punto di vista del vento. Il secondo prodotto che dovete sicuramente considerare per isolarvi dal terreno è il materassino. Se volete dormire a temperatura di meno 20, dovrete prendere un materassino con un air value di almeno 6. Qui abbiamo due possibilità. O comprare un materassino con air value 6 o superiore, che a quel punto avete finito perché siete a posto, però hanno dei prezzi non indifferenti. Oppure magari avete già un materassino estivo con air value di 3,5-4 e possiamo andare a integrare con un ulteriore materassino per portarlo a 6 o superiore. Se volete utilizzare questa seconda opzione, dovete sicuramente comprare uno di quei materassini isolanti, belli piatti, che dormirci sopra non è proprio il massimo, ma tendenzialmente hanno un air value compreso tra 1,5 e 2,5, quindi andandoli a sommare arriviamo ai 6 che vi dicevo prima. Questa secondo me è la migliore opzione, soprattutto dal punto di vista prestazioni prezzo, perché se avete già un altro materassino, tendenzialmente questi tipi di materassini così piatti, con un 20-30 euro, li comprate facilmente. Infine, naturalmente, per poter dormire bene d'inverno, il sacco a pelo. Qui non potete fare degli escamotaggi estrai, dovete prendere un sacco a pelo che abbia la temperatura comfort a cui volete dormire. Se volete dormire a meno 20, deve avere una temperatura di meno 20. Evitate di andare a inserire un sacco a pelo dentro l'altro, perché non ha un grande senso. Quello che vi consiglio, però, se magari avete un sacco a pelo da meno 15 e volete andare a meno 20, è quello di aggiungerci un bivi esterno. I bivi esterni sono semplicemente dei teli termici in cui andare a infilarsi dentro e che vanno ad aumentare un po' il nostro calore, soprattutto ad aumentare la temperatura di comfort del nostro sacco a pelo. Non l'aumentano di tantissimo, parliamo tendenzialmente massimo di un 4-5 gradi, però comunque ci possono venire in aiuto, sia per raggiungere la temperatura a cui dovremo dormire, sia ad avere dietro nel caso in cui la notte faccia ulteriore freddo. Questi bivi non costano neanche tanto, anche qua parliamo massimo di un 40-50 euro, sono piccolini, si possono portare in giro, vi assicuro che possono fare veramente la differenza. Questi bivi presentano solamente un piccolo difetto, ovvero che essendo completamente chiusi, se ci respirate all'interno, creerete tanta condensa. Quindi mi raccomando, quando li utilizzate, lasciateli un pochino aperti, così da far evacuare l'aria ed evitare di trovare il sacco a pelo bagnato al mattino. E tu, mi hai dormito d'inverno in tenda con temperature sui meno 20? Che attrezzatura hai utilizzato? Faccelo sapere qua sotto nei commenti, così ne discutiamo assieme e soprattutto, ragazzi, nella speranza sia stato esauramente esattivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!